Molto semplicemente come cittadino lui dice io ho notato, mi sento il dovere di criticare la figura della vittima criticare in senso cantiano quindi analizzarla mi sento di criticare la figura della vittima perché in questo periodo storico siamo immersi nel vittimismo siamo immersi in un mondo nel quale la vittima sembra avere la meglio perché essere vittima ti permette di avere dei vantaggi a me sembra che Alicia sia veramente veramente consapevole di questi vantaggi ma che li rifiuti e non solo li rifiuti così semplicemente ma lei se ne appropria per poter raccontare la sua storia ma la storia di una persona vincente che sta su un piedistallo